Coggi Giuliani, parliamo di rosa ed è una rosa in cui la concorrenza sarà alta un po' in tutti i ruoli forse se togliamo il paese a te. Sì, 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 beh, credo che la concorrenza sia un po' il sale dello sport, la concorrenza con le altre squadre, la concorrenza interna per far capire allo staff, a me, chi schierà la domenica, a chi è, credo che nel fatto oggettivo che abbiamo qualche ruolo importante solo dei giovani, possa essere una bella motivazione in più per alzare le perfezioni. Due domande, appunto la concorrenza interna tra Gutierrez e Rinaldi e Rischi, ma non sarà semplice scegliere chi mandare in campo la domenica, e poi il lavoro specifico sulla ricezione per permettere a Luciano Dececo il gioco più veloce così. Sì, sì, due argomenti sicuramente interessanti. Il primo ovviamente sarà monitorato quotidianamente attraverso i nostri sistemi per capire chi e in quale periodo è più in forma per garantirci stabilità di rendimento, questo per gli schiacciatori. Per quanto riguarda la ricezione sicuramente sarà importante far crescere tutto il nostro roster di ricettori per permettere a Lucio di esprimersi in cambio a palla ai suoi livelli. Senza far torti a chi c'era già, c'è qualcuno dei nuovi acquisti con cui ti incuriosisce un po' di più? Mi conosco quasi tutti, mi incuriosisce Gutierrez ovviamente per l'altezza che non ha e per le qualità fisiche che invece ha e anche Hamed, il giocatore libico, che anche lui sarà uno spettacolo a vedere saltare a Pabani. Molto bene. Grazie.